Lei fa video su YouTube? Sì E ha parecchie visualizzazioni? Massimo 30.000 Putta l'idea! Ma che genere di video fa? Videogiochi Ah, videogiochi? Sì Lei andrebbe d'accordo come figliolo Malato di mente, ormai da internare Il suo videogioco di più grande successo qual è? GTA V E come si svolge? Consiste nel rubare delle macchine, uccidere gente, fare un po' i delinquenti Interessante! Ma è sempre a piede libero lei ancora? Sì E poi dopo questa puntata? Sono online Diamo anche le generalità del signore E lei? No, no, non le diamo Però posso fare un po' di promo per il canale magari Ah certo, pure, sì, sì, beh, chiaro Quando volete imparare come si ruba le macchine Esatto Non solo Non solo Smarchettiamo ancora oppure finiamo qui? Non lo so Sul documento alla voce professione cosa c'è? Videomaker Videomaker? Anch'io siamo, siamo colleghi allora Ok, perfetto Perfetto In che videogioco li metterebbe Ficar e Picone? Far Cry Dai, è un po' più di sopravvivenza Due comici di sopravvivenza Diciamo che fanno stessa la notizia Come tutti, come me, per sopravvivere Grazie, con l'amico videomaker da Bologna è tutto Lì nello studio, arrivederci Ciao, ciao a tutti Bella Ciao, grazie, salutiamo anche noi